Bene, e quindi cominciamo a parlare delle reazioni di ossido-riduzione. Dunque, cominciamo, prima ancora di parlarne, ricordiamo che la distanza di un elettrone dal nucleo è determinata dalla quantità di energia potenziale posseduta dell'elettrone. Quindi più lontano è l'elettrone dal nucleo, maggiore sarà la sua energia potenziale. Quindi maggiore è la quantità di energia posseduta dall'elettrone e maggiore sarà la sua distanza dal nucleo. Se io do un apporto di energia, posso far passare quell'elettrone ad un livello energetico ancora più alto. Per quanto riguarda il problema di che cosa sia un livello energetico rispetto al nucleo, noi ci rifaremo poi ai video di chimica che abbiamo fatto e che stanno in una sezione a parte. Siamo per scontato che sappiamo cosa sono i livelli energetici e quindi ricordiamo soltanto che maggiore la distanza di un elettrone dal nucleo, maggiore sarà la sua energia potenziale. Allora, ad esempio, noi possiamo fornire energia. Guardiamo in basso, abbiamo un protone, questo è l'atomo di idrogeno, e con il segno arancione abbiamo l'elettrone. Quindi protone, elettrone. Cosa succede? Io posso aggiungerci dell'energia, questa energia mi fa passare l'elettrone ad un livello energetico superiore, però contemporaneamente quando l'elettrone ritorna al suo livello energetico originario, quella stessa energia che mi era arrivata, vedete qui come l'energia luminosa a sinistra, la viene restituita verso l'esterno. Allo stesso modo l'energia che io devo mettere per far salire un masso su una montagna, quella stessa energia si trasforma in potenziale, in cinetica, nel momento in cui il masso cade dalla montagna. Quindi ciò che do, in un certo modo, mi viene restituito. Dunque ricordiamoci che le reazioni chimiche sono sostanzialmente trasformazioni di energia. L'energia dove è immagazzinata? L'energia è immagazzinata nel legame chimico ed è trasferita ad altri legami chimici che sono di nuova formazione. Quindi in tali trasferimenti gli elettroni passano da un livello energetico, quindi da una certa distanza dal nucleo, ad un altro livello energetico, cioè ad un'altra distanza dal nucleo. Quindi in molte reazioni gli elettroni passano da un atomo oppure da una molecola ad un altro atomo o a un'altra molecola. Quindi queste sono le reazioni di ossido-riduzione. La perdita di un elettrone è detta ossidazione. E cos'è che perde questo elettrone? O un atomo o una molecola. Si dice che quando un atomo o una molecola perde un elettrone si ossida. Per quale ragione si dice che si ossida? Perché l'ossigeno molto spesso è l'accettore di questi elettroni. Quindi la molecola o l'atomo che perde questo elettrone si dice che si ossida semplicemente perché da qualche parte c'è un ossigeno che si riprende. L'acquisto quindi di un elettrone è detto riduzione. Ora l'ossidazione, cioè la perdita, e la riduzione, cioè l'acquisto, hanno sempre luogo contemporaneamente come di una qualsiasi contrattazione. Io do del danaro e ho in cambio qualche altra cosa. Quindi, oppure un avvoltoio e una carogna non esistono l'uno senza l'altro. Quindi un avvoltoio e una carogna hanno bisogno l'uno dell'altro in natura. Quindi, ossidazione e riduzione hanno sempre luogo contemporaneamente perché un elettrone che è perduto da un atomo o da una molecola viene accettato da un altro atomo o da un'altra molecola che a sua volta si riduce. Ora, l'elettrone non è che sempre viaggia da solo, come nel caso del sodio in figura. Vedete, Na+, Na+, significa che ha perso l'elettrone. Cl-, significa che il cloro ha acquistato l'elettrone perso dal sodio. Molto spesso capita che l'elettrone non viaggia da solo, ma viaggia con un protone. E quindi, viaggiando con un protone, in pratica viaggia come un atomo di idrogeno. In tali casi, l'ossidazione consiste nella rimozione di atomi di idrogeno e la riduzione consiste nella accettazione di atomi di idrogeno. Facciamo un esempio. Nell'ossidazione del glucosio, C6H12O6, la molecola di glucosio perde atomi di idrogeno, quindi perde questi atomi di idrogeno, questi 12 atomi di idrogeno. E l'ossigeno li accetta. Quindi l'ossigeno li accetta. E allora, nel momento in cui noi togliamo questi 12 atomi di idrogeno, noi abbiamo 6 atomi di carbonio e 12 atomi di ossigeno. Mentre da quest'altra parte, visto che l'ossigeno li ha accettati, abbiamo 12 atomi di idrogeno, che erano questi qua che stavano a sinistra, questi erano 12, eccole qua, sono 12 anche a destra, e praticamente l'ossigeno li ha acquistati. Noi abbiamo detto che l'ossigeno è accettore di questi elettroni o di questi atomi di idrogeno. Quindi, nell'ossidazione, noi cosa abbiamo? Che la molecola di glucosio perde gli idrogeni, mentre gli ossigeni, gli ossigeno li acquista. Ed ecco che abbiamo C6H12O6 più 6O2, mi dà 6 molecole di, perché qua ovviamente tutto è bilanciato, 6 molecole di anidride carbonica più 6 molecole di acqua, più praticamente qual è il prodotto di questa ossidazione? Un'energia. Guardate che il glucosio è una molecola più complicata, sia dell'idea carbonica che dell'acqua. Quindi, gli elettroni stavano a un livello energetico più alto. Adesso stanno a un livello energetico più basso, perché le molecole sono più semplici. Qual è il prodotto finale dell'energia? Quindi, nella reazione, gli elettroni passano da un livello di energia più alto, quindi del glucosio, a uno più basso, liberando energia. Nella fotosintesi, a cosa abbiamo? Che gli atomi di idrogeno sono trasferiti dall'acqua all'anidride carbonica, riducendola per formare glucosio. Quindi, praticamente, noi abbiamo che gli atomi, i dodici atomi di idrogeno, vanno qui nell'anidride carbonica e formano il glucosio. Cosa rimangono? I dodici atomi di ossigeno. In questo caso, gli elettroni passano da un livello di energia più alto, in questo caso, gli elettroni passano ad un livello di energia più alto, perché vedete che la formula... Allora, quando la formula è più complessa, il livello di energia degli elettroni è più alto. Quando la formula è meno complessa, il livello di energia degli elettroni è più basso. In questo caso, gli elettroni passano ad un livello di energia più alto, perché il glucosio, vedete, è più complicato, sia dell'anidride carbonica, sia dell'acqua, però, ovviamente, se C6H12O6, gli elettroni hanno un livello di energia più alto, vuol dire che questa energia qualcuno deve avergliela fornita. Quindi c'è bisogno di energia, eccola qua, che è l'energia solare, affinché noi, dall'acqua e dall'anidride carbonica, formiamo il glucosio. Nei sistemi viventi, le reazioni che catturano l'energia è la fotosintesi, e le reazioni che liberano l'energia si chiamano glicolisi e respirazione. E sono entrambe reazioni di ossido-diduzione. Nel prossimo video parleremo degli enzimi. Grazie a tutti.